allora bello a tutti ragazzi oggi noi su youtube sono sosa bene allora prima di fare il gameplay di oggi vi voglio dire grazie a tutti per gli auguri di ieri perché ho fatto il compleanno e quindi prima di andare al gioco quindi grazie a tutti per gli auguri siamo arrivati a 22 anni e quello che è andato da lui vi voglio vi voglio tutti bene diciamo questo non è cioè per aprire un po questa cosa per per tutti per tutti i miei fan che mi hanno fatto via sui social diciamo ok chiuso questo argomento possiamo andare al gioco caravaggio dipinge l'amore dormiere è molto buongiorno a fare i temi con i è molto buongiorno a fare i temi con i miei e si ne è molto e si ne è ci ora ne è moca scendere di qui a è la cena di questo riusci è io non l'ho visto sarà solo ma che non c'è nel quale la dichia ciao stai capo di telefonata qua acqua acqua stavano vado a lui quindi devono raccogliere le ciambelle ecco qua ai a avviene caramelle c'è la caramella non si è dimenticato le caramelle ehi a di nuovo far più negli altri quindi dove sono? sono spariti Grazie. 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 Sang나vi un po' lento eh. Da qua dobbiamo mandare i fiume, quella. Tanti level? Sì, vai ragazzi O quello che stiamo andando bene Eh, quelle piume del porco Come l'hanno morto, ragazzi E' bello che questo trucco rimane così Non ci incrosso, non ci va niente Sta mangiando pure tutto Ah, un po' di frutta ci vuole, dai Oh E se no sta mangiando sempre c'è un bel E pure un po' di frutta si deve mangiare La specie di fulme, prende il fulme Sì Ehi, bene, Gesù Non me ne avrete più Non me ne avrete più che Ma Ma te lo do da mangiare Ehi Sì Ammanate Allora, innanzitutto ci prendiamo la vid che può servire. Tu non sei proprio il king, quindi non sei il king di questo gioco, non è che sei messo king. Ti sei messo king e ti credi di essere king? No. Assolutamente sbagliato. Vai e cammina. Ci stanno vari snackers, banane, ciabelle, tutte scondate. Scondo questo del gioco, scondo che scappa, ma guarda che ultimamente ci attacca questa. Questa è bastare che porcone, porca la vacca morta e vai. Oh, per favore che vuole il giambello da là. Meno male, mi sono sano. Grazie a Dio ragazzi, me ne trova più, non è menato. Ehi, quasi, sono tanti cari. Aspetta la vid. La vid. La vid. La vid. La vid. La vid. da titta. Dai, cacciabelle, sono buoni. Tu mangiare, che devi un bocce Aggress, non devi che ma ne che si è ampio piik e era l'unica cosa che ho di video di video gioco è quando abbiamo gli ostacoli per esempio qua gli ostacoli sono le piume ti mancano le piume non ti fanno niente e fatevi mangiare non mi colpite sempre il king di questo gioco sarà lì deve essere lì deve essere lì ma mangia luca luca mangia che qua abbiamo tutta via non ci facciamo mancare niente eh questi due gioco mangi questi due gioco ehi dove vai ha preso la vinci mano mano e se no così colpisce la più andiamo vediamo se riusciamo ad andare nelle zone più dove non ci possono colpire e 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 termine il video e 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 ok prendiamo questa di mele e 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 vai 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 non ti fermare non ti fermare porca vacca non ti fermare poca e porca vacca battuta ragazzi video terminato se vi è piaciuto il video mettete like sotto nei commenti e ci vediamo al prossimo video Grazie.